L'appuntamento è per le ore 12 di giovedì prossimo. Il 28 luglio sarà una data da ricordare, anche se è stato necessario attendere fino a 48 ore prima per sapere almeno a grandi linee cosa sarebbe successo. L'ufficialità è avvenuta solo nella tarda mattinata di oggi, quando l'ufficio stampa di Anas Nazionale ha confermato le indiscrezioni di pochi minuti prima. Giovedì 28 luglio, appunto, alle ore 12, alla Galleria Palude, in località Casette di Copiglioro, nel comune di Foligno, in zona Colfiorito, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di una delle direttrici della quadrilatero, la Foligno Civitanova. Confermata anche la presenza del premier Matteo Renzi, che taglierà il nastro della nuova Val di Chienti, insieme al ministro dell'infrastruttura e del Rio, ai presidenti di Anas e quadrilatero, Armagno e Petrosino, e ai presidenti delle due regioni Umbria e Marche, Marigni e Ceriscioli. La conferma, tutt'altro che scontata, arriva stamane con l'ufficialità del protocollo, è che nel contempo anche il tratto della 318 Pianello Valfabbrica Schifanoia, ovvero il segmento Umbro della Perugia Ancona, sarà inaugurato. In questo caso è previsto un collegamento video con la direttrice che unirà con il completamento del segmento marchigiano, previsto entro il 2018, i due capoluoghi di regione. Una notizia che ha posto fine a giorni di incertezza, sia sui dettagli della cerimonia, ma pure sull'effettiva possibilità di aprire al traffico anche il tratto Umbro della Perugia Ancona. In queste settimane, infatti, dopo l'annuncio del premier Renzi e della stessa presidente dell'Umbria Marini nei cantieri della Perugia Ancona, è stata una vera e propria corsa contro il tempo che evidentemente ha dato esito positivo. Da alcune indiscrezioni però sembra che dopo il cerimoniale, mentre il traffico lungo la Foligno Civitanova potrà prendere corpo e unire fisicamente il Folignata al Maceratese per la Perugia Ancona e la sua effettiva percorribilità nel tratto Umbro bisognerà attendere ancora. Certo è che il 28 luglio resterà comunque nella memoria. Dopo decenni di attesa, due comprensori Umbri, il Folignate verso le Marche Legubino Gualdese e verso il capoluogo, saranno finalmente serviti da una strada a scorrimento veloce.